Ciao! Allora, come va? Buona domenica intanto. Mi è stato chiesto di fare un video, di commentare il McBank che ha fatto Davidopolo. E allora, credo che commentare un video del genere sia come sparare sulla croce rossa, però proviamo, dico la mia. Allora, io penso che nonostante sia palesemente, non lo so se è ritardato, senza offesa, però lui ha dei deficit, molti deficit. E questo è palese. Nonostante questo, vedete che brutta giornata che è oggi, nuvoloso. Nonostante questo, dicevo, secondo me hanno capito qual è il nervo debole nostro e lo sfruttano. Mi spiego. Con i primi McBank che ha fatto, a parte il vomito, ecco, lui sarebbe la mia dieta, la mia dieta perfetta, perché con lui davanti riuscirei a vomitare anche l'acqua. dicevo, a parte che non riesce neanche a centrarsi la bocca, non mastica, non lo so cosa succede in quella bocca quando introduce quelle palate di cibo. Nonostante le critiche, nonostante le offese, ha continuato in perterrito a fare questi McBank. Perché? Perché ha capito che ogni volta che lui mette un'anteprima di un video dove dice McBank abbuffata, McBank di qua, di là, la gente lo guarda, ma non lo guarda perché vuole sapere cosa mangia, o perché è interessata, o per farsi compagnia insieme finché si mangia. No, lo guarda per offenderlo, per vedere quanto sbava, quante volte non riesce a centrare la bocca. Così, per cui siccome loro ormai la dignità l'hanno venduta ai cinesi, come tanti negozi che cedono la loro attività, loro hanno ceduto la loro dignità, hanno capito che questa tipologia di video attira moltissimi haters, ma non haters che solo per il gusto di offendere. Cavolo, basta guardarlo. Cosa gli vuoi dire a un video così? Ma non credo neanche sia per la dentatura, perché anch'io ho avuto problemi, quanto mal di denti, quanto mal di denti. E me ne mancavano due da sotto, da un lato, e facevo fatica a masticare, e masticavo con quelli più davanti, mi sembrava, però masticavo, voglio dire, non è neanche una questione di denti, è proprio una questione che lui è stato abituato, sai quando i bambini mangiano con la bocca aperta, che tu gli dici, amore chiudi la bocca quando mangi, gli insegni, e lui non è mai stato insegnato, lui l'hanno lasciato libero e bello, come lo shampoo. Ricordo un commento, ricordo un commento di una ragazza, credo, ma non ricordo come si chiama, a riguardo proprio la dentatura, che gli ha detto, prenditi due vigors, due gomme, le attacchi, le attacchi e così ti fai i denti. Cosa gli vuoi dire? Così non, loro, cara Paola che mi ha chiesto questo video, non c'è soluzione, perché loro il canale non lo chiuderanno mai, perché un conto è avere 300, 400, 500, 1000 iscritti, ma con 60.000 iscritti, che sappiamo tutti più o meno cosa riesce a portare a casa Chiatona e Company, non lo chiuderanno mai, anche perché loro hanno un nemico, giurato come, chi era? Superman con la criptonite? Sì, credo di sì, e per loro, la criptonite loro e il lavoro, per cui non lo chiuderanno mai nel canale, anche perché secondo me, ultimamente, da Giuseppolo, quando è scappato a Davidopolo, è successo, diciamo, sempre secondo me, un cambiamento, cioè il canale non era più improntato sui nuovi iscritti, sui cartopazzi, su quelle cose là, ma è stato improntato sul trash, a cominciare da quelle gravidanze finte, palesemente finte, ma già dalla prima con Giuseppe io l'avevo detto, a seguire l'altra o le altre che si è inventata e da là ha cominciato a capire che il trash, come lo chiama lei, io lo chiamerei in un altro modo, perché il trash è forse anche, sì, intrattenimento, il suo non è il trash, il suo è, vediamo se mi viene una parola. Da lì ha capito che il canale, improntandolo su quella linea, su questa linea di falsità, prese per il culo, attirava sempre più gente, a lei non gliene frega niente, voi guardate i video, lei dice sempre, a proposito, scrivetemi qua sotto, nei commenti, dove posso trovare questo, dove posso trovare quello, se vi va bene questo, voi fate caso, nei commenti, aspettate ho tirato su una cosa, nei commenti non c'è mai nessuna delle risposte che vuole, ci sono solo offese, a parte due o tre, che dicono sei bella, sei unica, sei fantastica, sei miss universo e così, però tutti gli altri sono critiche, offese, pesanti e così, però non demordere, lei fa finta di niente e continua, perché più continua, più fa queste cose qua, e in più la gente, come dire, sei tentato, ti tenta di guardarla per vedere cosa fa stavolta, cosa dice stavolta, vediamo che minchiata spara e così, e questa è la mia idea, loro hanno trovato il filone d'oro, non chiuderanno mai il canale, a meno che non succeda qualcosa, o qualcosa di grave, o non lo so, però loro così, perché una persona normale, anche lui, 100 like e 900 e passa dislike, e sono tutte offese, lui ha tentato anche ad alzare la testa, perché lui quando risponde, risponde pesante, per esempio guardate il video che ho fatto io, io in quel video che stranamente non avevo offeso, non è che offendo, ma dico la mia, gli avevo detto solo, Pinocchio, sei la madre di Pinocchio, c'è mi mette un'offesa sotto e offende mia madre, no, 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 te li vengo a mettere io i denti, sai, fissi, non si tolgono più perché li avvito, li avvito fin quando dico io basta, vedrai che non si tolgono più caro, sdentato, e per cui poi lei, quando ha visto che non sono stata zitta, ho fatto il video contro, ho ancora lo screen, gli ha fatto togliere il commento, perché loro fanno così, sono falsi, ipocriti, bugiardi, sono falsissimi, ce l'hanno nel DNA proprio, una cosa, il video, normalissimo, innocente, che stava facendo il Reborn, in macchina, il vlog, mia moglie, è andata in un negozio, e gli chiedevano in live, ma che negozio è, che negozio, ah non lo so, è entrata in un negozio, e io la sto aspettando in macchina, non lo so, che per vedere un video suo bisogna accelerare il video, che è così, come quando lei mette la musichetta, se lo fai quando fa il vlog lui, lo vedi a velocità normale, è entrata lei, no, e dice, stranamente mia moglie senza borse, senza buste, lei dice, quale buste sono andate in banca? E lui è diventato tinta muro, bianco, palesamente incazzato, perché poi ha chiuso di botto il vlog, perché l'automobilista gli ha suonato, perché non sa neanche guidare, perché la patente l'avrà presa sul Tide, e già da là vedete il grado di verità, il grado di sincerità che hanno, cosa c'era? Ah scusate, non ho detto che andate in banca, perché era privacy, ma privacy di cosa? Se una va in banca a fare una commissione, mica hai detto è andata in banca, questo è il suo numero di conto, è andata a fare questo, dove, come si dice, gli spettatori dicevano, dove è Chiara? E andate in banca a fare una commissione, stop! Ma siccome voi non dite la verità, neanche, neanche quando vi, guarda, se voi dite, se voi due in un vlog dite, il sole è giallo, mi verrebbe da guardare per vedere se è vero, veramente, non riuscite a dire la verità, ormai la gente non vi crede più, neanche se dite la più, la più sacra delle verità, non vi crede più nessuno, sono andata in banca a fare una commissione per Chiara, ma poteva anche fare a meno di dirlo, perché questo, questi sono affari suoi veramente, sono andata in banca a fare una commissione, dov'è il segreto, dov'è la privacy, tutti vanno in banca, tutti, vanno in banca anch'io che non ho un centesimo, perché ho dei documenti da fare, qual'è il segreto, qual'è la privacy, è solo che ormai, lei gli ha inculcato le bugie, dobbiamo fare così, per fare visual, scusate, dobbiamo dire così, dobbiamo fare così, dobbiamo, e lui ormai qualsiasi cosa, vuole intortarla, indorarla, invece fai sempre peggio, ecco, questo è il mio pensiero sul, sul, sul Reborn, su di lei, cioè, stendo, non un velo pietoso, un telone da circo pietoso, perché, non solo indifendibile, ma, aggrava, aggrava sempre la situazione, come si dice, calca la dose, sempre, sempre di più, ad ogni video, ad ogni, l'altro giorno, non so se avete capito bene, perché, secondo me, tanti non hanno capito bene, perché, stranamente, non ho visto, tanti commenti, non so se avete capito bene, in un vlog, che ha detto, che adesso non se ne vanno più, che avevano detto, stanno cercando casa, che hanno comprato, un mezzo arredamento, shabby, 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 che poi, anche se non dici, shabby, lo stile shabby, tutti, a parte te, sappiamo cos'è, perché tu, non hai ancora capito bene, cos'è lo shabby, guarda, in edicola, ci sono delle riviste, che escono mensilmente, sullo stile shabby, prendine un paio, e così, ti fai una breve, e veloce cultura, sullo stile shabby, perché tutto quello, che hai preso, non è stile shabby, cara, chiattona, non è stile shabby chic, perché ormai, voi avete imparato, questa parola, non so se l'avete letta, se l'avete sentita, e ormai, ve la siete spiaccicata, nella bocca, perché lui lo diceva, anche quando provava i vestiti, quando si provava le magliette, coi lupi, coi leoni, con le tigri, col circo, non so se si può dire, il nome del circo, boh, meglio di no, non so se queste due persone, stanno venendo qua, adesso vediamo, boh, 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 ho perso il filo, che strano, sì, dicevo che, mezzo arredamento, questo lo portiamo nella casa nuova, questo lo portiamo, hanno detto che non se ne vanno più, perché la madre di lui, si è incazzata, ha detto, questa è casa tua, è casa vostra, qua puoi fare quello che vuoi, è carta bianca, sei libera di fare, di fare quello che vuoi, e loro hanno detto, per evitare spreco di soldi, per il momento stanno là, a me non ha suscitato niente, perché già sapevo che non se ne andavano, spreco di soldi, ma compra 15 fanco pop alla volta, ma che cavolo te ne fai, di quelle fanco pop, ribadisco i soldi sono tuoi, li puoi buttare stamattina, dalla finestra di casa tua, li puoi buttare tutti dalla finestra, però il senso delle fanco pop, che poi non hai 40 anni, ne hai 41 ciccia, perché gli anni vanno avanti anche per te, non solo per gli altri, ne avevi 40 l'anno scorso, adesso stai per compierne 41, è una camera che io non lo so che stile, stile monnezza, er monnezza, aveva una camera come la tua, stile discarica, altro che shabby chic, stile discarica, dici che vuoi un bambino, e ti sei comprata l'asilo di Reborn, di plastica, che adesso porterai spasso, dici che stai preparando il tuo corpo, per una gravidanza, e te ne strafreghi della dieta, ingolfandoti di tutto, che poi, vabbè, davanti alla telecamera fai finta, e poi la coppa te l'ha fatta tagliare fina, perché a te piace fina, ma chi volete prendere in giro, ah no, lei non fa l'assaggio perché è a dieta, però l'altro, l'altro furbo, molto avanti, dice questa è la coppa che ho fatto tagliare, per mia moglie, perché la vuole tagliata fina, povera Italia, povera Italia veramente, meglio se dici che vuoi preparare il tuo corpo, per delle ricerche per la scienza, quello sì, che altro dire, non lo so, non lo so, cara Paola, per tutti quelli che l'hanno chiesto, loro lo fanno apposta, noi, mi metto in mezzo anch'io, dobbiamo metterci in testa, che loro lo fanno apposta, non ci sfidano, non è la parola, ci provocano, e noi, ci cadiamo, anch'io, perché, quando le sparano proprio grosse, come fai a stare, come fai a far finta, non è far finta, perché secondo me, se tutti non gli dessimo retta, la cosa sarebbe, cioè, capirebbero che non gliene può fregare di meno a nessuno, e calerebbero le visual, e cambierebbero stile, ma loro hanno capito, che provocando, come l'ultimo, aveva ancora famina, cioè, si è alzato, sembra, gli elefanti hanno una gravidanza di due anni, lui sembra un elefante, cioè, non lo so, arriva prima la pancia, dopo un quarto d'ora, arriva lui, maschio alfa, quello non è neanche il maschio, l'apostrofo vocali, scusate, ho bevuto dal bicchiere di vetro, e niente, per cui non c'è, non c'è speranza, cari, non c'è nessuna speranza, che poi, non lo so, sento un odore strano, adesso vedo, che poi anche la nonina, poverina, mi dispiace tanto, adesso che la nonina è in ospedale, a chi daranno la colpa che mangia tutte quelle porcherie, a chi le faranno mangiare, patatine, cioccolata, yogurt, budini, brioche, e di tutto e di più, a chi le faranno mangiare, aspetta, 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 gatti non ne hanno, cani non ne hanno, bambini non ne hanno, forse daranno la colpa a Dennis e a Malika, che mangiano tutto, il suocero, poverino, lavora, l'unica persona, e non lo so, era dispiaciuta, però era in giro a fare shopping, e a pensare come rivoluzionare la casa, vabbè dai, comunque, alla nonina, dal mio augurio di cuore sincero, speriamo che si ristabilisca presto, perché, ne ho sempre detto, io avevo una nonna, che mi ha fatto da mamma, e è morta quando io ho compiuto 40 anni, e mi disperavo come fosse una bambina di 4, perché lei era la mia migliore amica, le confidavo tutto, per cui, io i bambini, e le persone anziane, le adoro, mi voglio bene veramente, per cui alla nonina, va il mio grosso augurio, che guarisca presto, che si rimetta, e che stia bene veramente, e a loro due, invece, non so neanche se provare pietà o cosa, perché sono irrecuperabili, volevo farvi vedere se riesco, che vi avevo promesso, ah ecco, forse così si vede, sì, vedete, questo è il lavoro, è un, come si dice, un gioco di dritti e rovesci, e dopo un 7, 8 giri, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al settimo si calano 15 maglie, per poi nell'altro giro, vedete, le ho calate, qua, nel giro successivo, subito, si rimontano, e si riprende, a formare, queste grosse, questi grossi occhielli, ok, una volta, arrivati, alla misura, la misura del collo, la misura, che si vuole ottenere, aspetta, vi ho già fatto, o due, perché con una mano, vedete, si incrocia, ehm, si forma un'asola, con questa qua, così, praticamente, così, e si fanno passare, le maglie, ecco, vediamo, vediamo se riesco, a farvi passare, così, beh, ma poi, restano belle cicce, morbide, adesso, con una mano, vedete, e diventa, una treccia, bellissima, in 3D, distaccata, e poi, qua, naturalmente, si forma l'altra, nell'ultima, potete fare, sia il giro, di sette giri, sei giri, come questo, oppure, si può fare, quando avete, siete arrivati, alla misura, e chiudete il lavoro, potete fare, solo tre giri, in modo che, l'ultimo giro, diventa fino, e quando lo passate, lo intrecciate, diventa fino, fino, e resta l'ultimo occhiello, qua, poi, qua, vanno, cuciti, due bottoni, gioiello, come avevo fatto io, due bottoni, gioiello, uno qua, e uno qua, e naturalmente, poi, l'ultimo, anello, farà da, da asola, e si, viene stupendo, questo, me l'ha richiesto, mia figlia, me l'ha richiesto, mia figlia, e, l'ha voluto nero, avevo anche, della lana, con un lamè, argentato, dentro, ha detto, no, lo voleva nero, e l'ho fatto, con una lana nera, ci andava, più, grossa, ma non l'ho trovata, bella, l'ho trovata, ma sembrava, no, no, allora, l'ho fatto così, al limite, faccio, tre, quattro, asole di più, per arrivare, però, questo, è morbidissima, è calda, e, è bella, si fa con una lana, grossa, e con i ferri, del 9, io ho trovato, questa lana qua, e li ho fatti, col ferro, del, con i ferri, del 7, i miei appunti, il bicchiere di vetro, che vi avevo detto, ma niente, e questo, lo sto facendo, non so se lo sapete, se l'ho già detto, ma io, a 40 anni, ero già nonna, mia figlia, era in stanza, con una donna, di 39 anni, doveva compirne 40, come me, e era là, perché aveva partorito, il primo figlio, io ero là, perché mia figlia, aveva partorito, mia nipote, in sala parto, c'ero io, e perché suo marito, fa il fornaio, lavora in un forno, poverino, ed è arrivato, che era già in sala parto, per cui io, e questo scaldacollo, me l'ha chiesto, per mia nipote, ha detto, mamma, fammelo, perché lei adora il nero, e ha fatto subito, oggi lo finisco, vedete, si vede, si vede, molto bene, molto bene, qua, però, oggi, dopo vi intreccio, anche questo, vediamo oggi, perché, verso le 4, e mezza, 5, devo fare, una commissione, ben, comunque, anche domani, ve lo faccio vedere, è finito, io, vi auguro, una buona, domenica, ecco, vedete, però, adesso, l'ho fatto, con una mano sola, l'ho fatto, con una mano sola, perché questo, super tecnologico, cellulare, una volta, è finito, è bella, è bella, poi, vi faccio vedere, bene, anche l'altra, ve l'avevo già, fatta vedere, in un video, ma magari, su questa tavola, bianca qua, vi faccio vedere, come risulterebbe, con una lana, più, grossa, che quello, l'avevo fatto, per me, però, magari, se lei piace, meglio il mio, gli mando il mio, tanto è nuovo, non l'ho mai messo, e anche se l'avessi messo, voglio dire, però, se gli piace di più, quello, gli mando quello, io mi tengo questo, ok, buona domenica, passatela bene, siate felici, per, quello che si può, vi auguro, dal cuore, ogni bene, e me lo auguro, anche a me, vi mando un bacio, e alla prossima, ciao, e grazie mille, grazie mille, perché, trovo sempre, un commento, apro, ci sono sempre, commenti, belli, ma anche quelli brutti, non, basta che non offendano, si risponde, anche a quelli, si fa, uno può avere mille gusti, giustamente, se fa domande, è giusto anche rispondere a loro, ok, ciao a tutti, e grazie del cuore, ciao, ciao, ciao,